Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui Scaros96 e oggi vi mostrerò questo simpatico easter egg nel santuario sotto Monte Rigioni. Ehi, c'hai problemi Altair? Che stupido! Stupida sarai tu! Ehi voi! Ma che vi passa per la testa? Oh no, Dio non voglia che mi rilassi un attimo. Ho solo passato le ultime tre settimane in quella macchina di merda. No, hai ragione. Continuiamo a cazzeggiare mentre il mondo cade a pezzi. Ehi, non è facile per me, sai? Sì, come se noi fossimo qui in vacanza, vero? Basta! Sentite, siamo tutti sotto pressione, ma siamo gli unici che possono fermare l'abstergo, perciò manteniamo i nervi saldi. Ha ragione, dobbiamo operare come una mente unica. Che ne dite di un po' di riconciliante yoga? Eh? Molto divertente, Sho... Potrete effettuarlo quante volte volete, davanti alle prime sequenze, interagendo con la statua. Ehi, c'hai problemi Altair? Beh, spero che il video sia stato utile. Mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti!